SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, anche questa settimana una puntata a tutto running da correre a fil di cielo. Doppietta transalpina a The North Face, la Vared Ultra Trail. I francesi Fabienne Antoninot e Carolina Chavereau vincono la The North Face la Vared Ultra Trail, gara di 120 km con 5.800 metri di dislivello, inserita dal 2014 nell'Ultra Trail World Tour, il circuito delle gare più famose a livello internazionale. 1.500 atleti, provenienti da 64 differenti nazioni, si sono messi in gioco sul percorso che li ha portati a toccare Federa Vecchia, il Lago di Misurina, le Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Landro, le Cinque Torri, il Passo Giau e la Croda da Lago. Luoghi resi magici perché attraversati in momenti particolari come alba e tramonto. Inizialmente era stato lo spagnolo Pau Cabel Gil a prendere il comando della gara e l'aveva quasi sempre mantenuto, eccetto solo qualche breve episodio. La vittoria dell'undicesima edizione della The North Face Lavared Ultra Trail sia decisa quando, alla Croda da Lago, Fabienne Antolinot decide di aumentare il ritmo e di andare verso Cortina d'Ampezzo per prendersi la vittoria. Da segnalare un quarto posto che vale oro per l'esordiente Fulvio Dapit. Nella gara femminile, subito dopo la partenza, è stata la francese Caroline Chaverot a prendere il comando della gara, leadership mantenuta per tutta la durata della competizione. Ottima terza piazza per l'italiana Lisa Borzani. Nella Cortina Trail, prova di 48 chilometri con 2600 metri di dislivello, vincono invece Matteo Pigoni e Silvia Serafini. Seconda tappa del Trentino Vertical Circuit, al Cornon, sigillo di Anne Sperpan e Francesca Rossi. Per me è andato bene, sì, ho avuto belle sensazioni, il percorso è molto bello. Sì, diciamo, belle corribili anche ogni tanto, sì, sono dei pezzi molto ripidi, ma sì, l'ho trovato molto bene. Dopo 30 minuti della gara, l'ho visto che ho sempre quel vantaggio, sì, era sempre uguale, ho pensato, sì, dai, adesso forse riesco a tenere. Era, sì, era caldo, ma dopo in cima era bello fresco anche. L'è più dura per me, per vari motivi, beh, intanto perché non sono più giovanissima, poi per il clima oggi era particolarmente caldo, affa, anche se poi il sole se n'è un po' andato, ma insomma c'era tanto caldo, e quindi insomma ho penato, poi ho questi problemi al ginocchio, quindi insomma, però è andata bene, dai. Le ho staccate subito e allora ho detto, ce la posso fare, avevo un po' paura sui traversi, perché appunto non posso correre, quindi ho dovuto camminare, però era in vantaggio, quindi ho detto, lo mantengo, pur non avendo fatto chissà che tempo, l'ho mantenuto, dai. Stava a Mountain Race, sotto il diluvio, la terza tappa della sportiva Mountain Running Cup è stata vinta da Francesco Pupi e Stefani Cimenez. Ho cercato di fare la differenza sulla salita, che è il mio terreno, e sono partito subito davanti. La prima parte ho avuto buone sensazioni, dopo sulla parte alta, che è un po' più tecnica, ho iniziato a fare un po' fatica e in discesa sono andato leggermente in difficoltà, però almeno per oggi è bastato per arrivare davanti. Per me questo era un po' un passaggio, venivo qui abbastanza sicuro delle mie possibilità e fortunatamente sono riuscito a confermare. Adesso testa prima di tutto agli europei di corso in montagna tra due settimane, di Slovenia, e poi sicuramente premana. Per me è stata una sorpresa perché sono tornata alle gare a di più, più corte. Che è stato più corte penso che è stato un avvantaggio per me, visto che sono più forte in salita. Non ho gestito niente, ho dato tutto e proprio sono molto felice. Ho ripreso piano piano tutte e sono passate su per prima e in discesa ho dato tutto dopo dopo. Skyrace, alta valtellina. Una Robert Krupicka come da pronostico e quell'Elisa Compagnoni che forse non ti aspetti. Alta valtellina Skyrace a Robert Krupicka e Elisa Compagnoni in un'edizione da record. Oltre 300 iscritti, l'1.33.13 del cieco del team Salomon, così come l'1.33.40 del secondo classificato Daniel Antonioli, vanno a migliorare il record maschile della manifestazione, fatto a segnare nel 2015 da Marco De Gasperi. E proprio il sei volte ridato della corsa in montagna, in gara nel ruolo di atleta organizzatore, ha staccato un'importante terza piazza. Al femminile, successo della 27enne di Valfurva, Elisa Compagnoni con 1.06 di vantaggio su Elisa Sortini. Terza classificata, Giulia Compagnoni, per un podio tutto targato, atletica, alta valtellina. Marco De Gasperi contro Tadei Piuk, campioni a caccia di record alla Sky Marathon, sentiero 4 luglio. Un record storico che appartiene ad un'icona delle corse a fil di cielo come Mario Poletti. Un record che potrebbe cadere in caso di una super sfida giocata in condizioni ottimali. Vista la presenza del sei volte ridato della corsa in montagna Marco De Gasperi e del due volte dominatore di World Series di Sky Running Tadei Piuk, le carte in tavola per un'edizione 2017 stellare vi sono proprio tutte. Banco di prova, la più completa delle Sky Marathon. Una gara tecnica e corribile al tempo stesso. 42 km di vero Sky Running con 2.700 metri di dislivello positivo. A fare da contorno una mezza altrettanto bella che da sempre richiama atleti delle corse a fil di cielo e della corsa in montagna classica. Qui uomo da battere Ilariano Emanuele Manzi. Questo fine settimana noi saremo a Santicolo, sul campo di gara. Seguiteci su SDM. Anche per questa puntata è davvero tutto. Il nostro consiglio in gara non cambia. Sognate, osate e non bollate mai. SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.